Un libro dedicato a Luciano Modugno, sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di Molfetta, figura amica nella settore di Piazza Mazzini che non passava inosservata ed è rimasta nel cuore dei Molfettesi. Ascoltiamo l'intervista all'autore del volume Giuseppe Pansini a cura di Damiana Sgaramella. Un libro dedicato a Luciano Modugno, sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e già presidente dell'Associazione Carabinieri di Molfetta, una figura amica nella sezione di Piazza Mazzini che non passava inosservata ed è rimasta nel cuore dei Molfettesi. L'autore Giuseppe Pansini, giornalista e presidente del Centro Studi Leonardo Azzarita, il quale nel suo volume ha messo insieme tanti ricordi di amici, ufficiali e sotto ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Lui era un sotto ufficiale dell'Arma ma era soprattutto un amico della città, un amico delle persone, della gente che passava. Era impossibile passare da questa sezione e non fermarsi a salutarlo. Era praticamente l'amico di tutti ed è per questo che l'abbiamo voluto ricordare invitando tanti suoi amici, colleghi, commilitoni a scrivere di lui perché tutti hanno un ricordo indelebile di Luciano Modugno. L'iniziativa editoriale è della famiglia Modugno, su richiesta di molti amici e conoscenti ed è stata affidata a Pansini che nel 2013 aveva avuto l'attestato di benemerenza dell'Associazione Carabinieri di Roma. Anche il sindaco Tommaso Minervini ha voluto scrivere un ricordo di Modugno così come per gli eredi della storia, anche l'ingegnere Andrea De Gennaro che ricordano il sotto ufficiale come un amico fraterno che ha voluto eternare la sua memoria donando la sua divisa di ordinanza al Museo degli Eredi della Storia e dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra di Molfetta perché rappresentasse, salvo d'acquisto, un martire della resistenza. L'iniziativa è partita dalla famiglia che ha voluto, forse su invito di tanti amici, voleva lasciare un segno di questo passaggio, un segno che fosse una pubblicazione anche per ricordare e per far sapere ai giovani, alle tante persone che non l'hanno conosciuto, chi era Luciano Modugno. Il volume di 80 pagine contiene una raccolta di fotografie sull'attività sia in servizio che da presidente dell'Associazione Carabinieri di Modugno in particolar modo quella di custode di San Pio da Pietralcina in quanto era stato assegnato alla scorta del Santo a San Giovanni Rotondo o di altri momenti di servizio tra gli altri anche quando vi fu la visita di Papa Giovanni Paolo II a Bari. Lui con San Pio ha avuto un rapporto personale, un rapporto privilegiato devo dire, assegnato per ufficio ma è un rapporto che si è portato dietro sempre. Ha sempre raccontato questo periodo di San Giovanni Rotondo come un periodo particolare anche per la sua vita, proprio l'aveva toccato umanamente e spiritualmente. E poi naturalmente come sotto ufficiale abbiamo evidenziato anche le tante operazioni che ha condotto perché è stato un carabiniere prima di tutto e quindi il suo impegno a servizio della legalità e della sicurezza di tutti. Tutti devono tanto a Luciano Modugno, consentitemi di dire un amico per tutti e di tutti.